Non è record solo perché in Italia c'è chi fa peggio di noi. Il 13% di aumento per percorrere l'autostrada a 24 e da 25, l'autostrada dei parchi, è un numero gigantesco ma asettico, se non calato nella realtà, di ciò che dal 1 gennaio l'automobilista medio si troverà a dover pagare al casello. Per andare da Roma a Pescara ci vorranno infatti 23 euro centesimo più o centesimo meno, qualcosa in meno di 50.000 lire del vecchio conio, tanto per rendere meglio l'idea ai non-millennials. Più o meno la stessa cifra che un pescarese e un bolognese devono sborsare sulla 14 per andare a cena sotto la torre degli Asinelli o al contrario in un ristorantino sul mare Adriatico. Ancora per andare da Teramo a Roma serviranno poco meno di 20 euro, fare la conversione in lire qui è abbastanza semplice. Per strada dei parchi, la società che gestisce le due arterie che collegano l'Adriatico al Tirreno, gli aumenti sono inevitabili perché conseguenza diretta del blocco delle tariffe imposto negli ultimi tre anni dal Ministero e della mancata approvazione da quattro anni del piano economico finanziario di A24 ed A25. Dunque tutta colpa della politica, secondo il concessionario, e di un contratto che prevede adeguamenti tariffari per remunerare gli investimenti nell'infrastruttura. Le complanari di Roma per un importo complessivo di 258 milioni di euro, il raddoppio del tratto autostradale in direzione Teramo, gli interventi di messa in sicurezza dei viadotti, la dotazione del traforo del Gran Sasso, di più nuove e moderni sistemi antincendio, l'automazione delle stazioni di servizio, la posa della pavimentazione drenante su 100 chilometri di rete, tutto messo nero su bianco nella nota del gestore. Come ormai appuntamento fisso del fine anno, o a scelta, tanti auguri per l'anno nuovo, i cittadini devono quindi fare i conti con l'ennesimo rincaro, tralasciando gli altri salassi in vista per luce e gas. E come ogni fine di anno che si rispetti, arriva la levata di scudi contro il caro pedaggio. Per il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, se ci dovesse essere l'aumento sarebbe un salasso per quella che è già l'autostrada più cara d'Italia. Per Daniele Liccheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, questo è l'ennesimo schiaffo al nostro Abruzzo già gravato da una pesante crisi economica. Contrari agli aumenti anche le associazioni di categoria. Per il presidente e per il direttore di Confartigianato Abruzzo, rispettivamente Luca Di Tecco e Daniele Giangiulli, l'aumento dei pedaggi è semplicemente vergognoso. I due attaccano il presidente della giunta regionale abruzzese Luciano D'Alfonso e il suo altrettanto vergognoso silenzio. Il direttore regionale di Confcommercio Celso Cioni, in una lettera aperta, chiede un incontro al governatore, prefigurando un'ulteriore perdita di competitività del sistema produttivo abruzzese. Intanto, nel mezzo del contenzioso sul caro pedaggio, gli automobilisti e quanti transitano sull'autostrada per affari si preparano a mettere per l'ennesima volta la mano nel portafogli, sperando almeno che al casello la notte di San Silvestro vengano servite tartine al caviale e champagne.